Ok, salve ragazzi, volevo mostrarvi un po' come funziona il Sonoff su Amazon Alexa. Allora, una volta acquistato il Sonoff, il Sonoff permette di accendere e spegnere prese in remoto con una frequenza di 483, cioè che noi acquistiamo delle prese con una frequenza di 483 con telecomando. Una volta fatto ciò, installiamo l'applicazione chiamata EOLINK, una volta aperta l'applicazione, seguiamo le procedure di registrazione, inseriamo un'email e una password, dopodiché aggiungiamo le nostre prese. Per aggiungere le prese sul Sonoff basta andare su questa iconcina più, selezioniamo quante prese vogliamo inserire sull'applicazione e facciamo OK. Una volta fatto OK, lui ci ha inserito questa RF remote e per registrare la presa basta tenere premuto e con il telecomando registrare la frequenza della spina. Una volta fatto questo, andiamo sull'applicazione di Alexa e in basso a destra su dispositivi, tutti i dispositivi, aggiungiamo il dispositivo, cioè aggiungiamo la nostra spina. Una volta fatto ciò, gli diamo un nome per accendere e spegnere quella presa. Io, ad esempio, l'ho chiamata il Natale. Fatto ciò, inseriamo l'applicazione EOLINK su Alexa. Come fare tutto ciò? Andiamo su Skill, una volta dato su Skill, andiamo su Cerca e cerchiamo l'applicazione EOLINK. Una volta fatto ciò, la abilitiamo. Una volta abilitata, lei si collegherà automaticamente su Alexa. Fatto ciò, vi mostrerò come Alexa accende una qualsiasi presa registrata sull'applicazione e su Sonoff di EOLINK. In questo caso, noi l'abbiamo chiamata il Natale e per spegnere le luci. Gli diciamo, Alexa, accendi il Natale. Ok. Ecco qua, come abbiamo potuto vedere, ha dato l'impulso alla presa e per spegnere basta che diciamo, Alexa, spegni le luci. Ok. Adesso vi mostro un attimo brevemente come in questione io ho collegato la presa al mio albero di Natale. Quindi diciamo, Alexa, accendi albero di Natale. Mi dispiace, non ho trovato nessun dispositivo chiamato albero di Natale. Alexa, non mi dia l'udere. Alexa, accendi il Natale. Credo che tu voglia accendere il dispositivo al Natale. Confermi? Sì, Alexa. Scusa, quale dispositivo? Alexa, non mi prendere in giro. Allora, allora gli ripetiamo. Scusa, quale dispositivo? Alexa, stop. Alexa, accendi il Natale. Ok. Ecco qua, adesso non ho fatto capricci. E per spegnere basta che diciamo, Alexa, spegni le luci. Alexa, spegni le luci. Ok. Ecco fatto. Adesso siamo riusciti. Spero di essere state di aiuto per qualsiasi cosa. Commentate qui sotto. Alla prossima. Ciao.